Signori, benvenuti a questo unboxing speciale. La Sony mi ha inviato in anteprima il loro nuovo gatto e finalmente oggi andremo ad aprirlo tutti quanti insieme. Ecco qui signori, andiamo a prendere il prodotto, guardate, guardate qui il colore, vediamo un bianco sotto che si mischia al grigio e anche un accendo di giallo, quattro zampe come previsto dal set una coda e come vedete il peso è di circa penso 8 kg. e mezzo e lo testeremo in queste due settimane, ci vediamo per due settimane per vedere cosa ne penso. Saluta, ciao! Eccoci qua signori, sono passati due settimane, ho avuto modo di testarlo, innanzitutto il peso è 8.7, abbiamo pesato e qualche dettaglio in più, come potete vedere il volto risulta essere leggermente deformato, ma questo non è un difetto di spedizione, è stato proprio prodotto così, come vedete infatti il plastico muso allungato dei gatti, ma a muso più schiacciato, i denti sono belli appuntiti, come si può vedere qui dal morso, e la lingua risulta ruvida al tatto, ecco vedete, lui lecca e poi dopo... no, non morde, è strano, ultimamente ha mosso, pensavo fosse un bug, invece no, tutto ha mosso, funziona bene. Ah, un dettaglio sugli artigli, sono molto molto lunghi e cattivi, come potete vedere. passate bene il tasto sotto per fare questo effetto, ripremendo, se ripremo non rifà. No, l'ho spinto, ok, fate di stand by. la passiamo, facciamo anche come cammina, non siamo alla camminata, il pedalo è molto morbido, la coda si muove automaticamente, ma questa può anche restare in piedi da solo, e ora vediamo se esegue gli ordini. Seduto! Seduto! No, purtroppo non è ancora riuscito, non è ancora riuscito a imporre gli ordini. Però, questo è il prodotto finale, vi lascio il link in descrizione se volete acquistarlo. Usando il mio codice Livio10 riceverete 10% di sconto. Ragazzi, ci vediamo al prossimo unboxing e al prossimo video. Ciao a tutti! ciao a tutti! ciao a tutti!